Abbiamo qui tra di noi l'autore di questa canzone, io vado sempre a caccia di autori di testi perché penso che la musica popolare non debba morire, semplicemente perché non ci sono più i grandi autori popolari qui tra di noi c'è Piero Carbone questa sera che ha scritto questi versi di un tema che è assolutamente moderno il problema è l'immigrazione, magari noi che non siamo un paese rivierasco non lo sentiamo però rischiamo di mangiare i pesci, guai a voi se mangiate in questo periodo i pesci grandi perché sapete di che cosa si nutrono? Dei cadaveri che ci sono sul canale che separa questa nostra terra dalla terra che ci sta di fronte lui ha scritto queste parole che io trovo meravigliose e che abbiamo in qualche modo riarrangiato a modo nostro si chiama Lumari Selaghiotti Grazie a tutti 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 Grazie a tutti